Sì, è una gara difficile, su un campo difficile, però logicamente il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, cercare di vincere, quindi dovremmo essere bravi a farlo con intelligenza e con pazienza. Quali l'insidio maggiori che potrà incontrare la San Benedettese? Ma sicuramente la cattiveria agonistica che magari la Miternina mette nelle partite casalinghe, soprattutto il campo, però d'altronde noi dobbiamo essere pronti a tutto e quindi questo non deve essere un alibi ma deve essere per noi un motivo di sprono e quindi di fare bene. Il nostro compito è quello di provare a vincerle tutte e la Miternina per noi è un ostacolo grosso, ma ci dobbiamo provare. Due squadre in salute si affrontano, entrambe in reddito e due vittorie consecutive? Sì, loro stanno andando abbastanza bene, noi stiamo continuando la marcia che la San Benedettese aveva iniziato all'inizio campionato, il campionato è ancora lungo, adesso prepariamo questa partita del migliore dei modi cercando di fare un'ottima gara sotto tutti i punti di vista. Una Samba per chiudere la ricerca dell'allungo in classifica? Ma no, la Samba è la ricerca della quadratura giusta per cercare di fare i punti e cercare di trovare la compattezza giusta.